Ciao a tutti ragazzi qui Plasmgames, bentornati in questo nuovo video in cui facciamo boss fight E ricordatevi che chi si chiama Andrea Laker? E ricordatevi che gli GZ sono peggio dei Plasmgames E' vero Ma sono i 40 morti più forti E' vero Ma noi siamo il team più unito Sì Aspettate, infatti andiamo ad un altro neanche unito che il team Che una volta io ci ho giocato insieme a coppie E lui moriva sempre Con il mio team non ho capito Però quando c'eravamo sempre Ehi ma chi volevo mettere alla prova Infatti è vero Infatti ho visto quanto lo scatto E tu mi hai fatto per andare in arena Capito? Mi ha fatto perdere tutti gli hype Tutti Su quel paese Perché me li chissero i fatti con il giorno Penso che io me li chissero i fatti con il giorno E dai ma tutto io no Perché io ci gioco l'arena Però almeno gli hype E li vorrei Scusate ma Andrea Signore Andrea De Angelis Signore Andrea De Angelis Lei gioco a 7 ore al giorno Ti credo che recupera il hype Esatto No ah no scusa Non è gioco Sette nel giochi 8 Dai Sto aspettando che la vita Ti restringe Così non ci sei Non c'è che non si restringe più la safe Andiamo qui Allora per farlo 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 Io sono Io sono Ma perché non la sua vita E sta pure avanti Di me Magro ma come si fa? E sta a segnalare le persone non è creativo dai che soccorte e basta perché io so bizzare ho dei grandi burbi macro di andrea le macro da play non si possono usare non è vero si possono usare c'è un sito molto raro che io non conosco graia per canza si possono usare le macro da play amma cosa che gioco e poi mi diventa me di mia sorella aiuto io me ne vado ciao non mi hai diconato no no dai hai due parate allora adesso facciamo vedere facciamo vedere questo a questo gx che sono i plasma ok no mattia dai ci si avvicina potevate aspettare è vero gioia stai vincendo con se non è curiosità quante pinte avete un boccio tantissime senti andrea io ti farei vedere se ci possa anche andrea richiudi ti farei vedere e poi noi non stiamo non stiamo scuodando e poi che termine brutto si chiama fare no 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 l'hai distrutto Sam l'hai docenti in bocca oh ma per me bonnie il tuo obiettivo è uccidere è uccidere Andrea laseralo 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 vai vai Fade 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 no no guarda guarda non lo cosa fa non lo laseralo mi adassano vai 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 dai 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 non lo facciamo dare no 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 ma che fai perché sei fermo perché sei fermo no perché sei fermo dai non ho tappato no ma no ma perché sto fermo ma perché sei fermo è proprio tappato non l'ha però detto ragazzi secondo voi perché io sto così allora eh appunto eh infatti c'è Andrea non ha cuore perché sta nell'IGZ ragazzi oh accendo ragazzi no perché in pratica ma rega ma rega c'è la connessione schifosa e quindi mi si blocca ma perché volevo di sei eh poverino no non c'è team ma per te già subito non c'è di me ma che dietro guarda dove te sarebbe giusto Andrea no ma ma per me ti prenda te lo vado 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 addirittura Samu no c'è morto oh c'è Samu io ti so passato davanti non è che ti ho ucciso ti so passato davanti povero Pietro sei cattivo poi dice a me Pietro Pietro ma intanto intanto io sono del Razm tu sei degli IGZ quindi è un altro discorso eh appunto ma manco sei crescita ma manco registrate ma poi neanche registrate come si chiama il canale di Mur Andrea ti posso dire una cosa si non ci credo sicuramente non ci credi dopo te lo dico non ci crede Andrea ma perché non fai mai le partite perché non fai mai i video perché se registro mi larga se faccio il leggo mi nervo ma sai perché sai cosa fanno i plasma pagano i giocatori quindi i giocatori si fanno la connessione nuova non è vero aspetto non è vero ti prego 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 Samu ok scusate ma non mi sa vedo tantissimo quanto chodo dai come mi si intende mi tende tutto andranno sono a fare nuove non è saluti è vede 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 mi salva saluti si sa vede 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 malediatto nooo sono amato guarda che mi mi ha fatto vede il gruppo ah credi di essere più forte di mè no Mi ha ucciso G-Bot G-Bot Io si ho ucciso Guarda che non stiamo facendo Sei contro uno Stiamo facendo tutti contro tutti O ci sono Samuele Non è vero Io avevo ucciso prima Samuele Ho ucciso un botte di persone Prima di farlo E poi sei arrivato te E allora Ho sparato a te Mentre c'era un altro che mi sparava Mentre c'era un altro che mi sparava a me Mattia Ma credo che questo video Possa finire qui E Ma guarda che mi sparava E Ma guarda che mi sparava a me